Che ci sia una forte presenza pubblica nella realizzazione di quel ponte e che ci sia un controllo pubblico efficace sulla realizzazione di quel ponte è certamente un'esigenza condivisa da tutte le istituzioni locali. Fincantieri, Cassa di cose che questi hanno offerto questa disponibilità e noi abbiamo già girato come disponibilità a società autostrade. Non vi so dire se queste professionalità sono esaustive di tutto quello che serve per ricostruire il ponte. Credo di no, perché serviranno anche altre aziende specializzate in altre parti. Quindi, come si dice spesso, potrebbe essere costituito l'associazione temporanea di impresa che metterà insieme le migliori capacità che abbiamo in questa regione. Se fa parte che i cantieri, se fa parte che i cantieri, perché non lo decide Tocchi, è una regione che non è il mio lavoro fin da adesso. A, perché pubblica e quindi penso che possa avere una valenza particolare. B, perché è professionale, conosciamo tutte le qualità. C, perché è un'azienda importante della nostra regione.